Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida, io sono Altair e oggi vi spiegherò e vi mostrerò come continuare il trionfo ascolta con calma. Prima di continuare con il video però, vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale nel caso in cui vi sia stato d'aiuto e vi sia servito il video, così da potermi supportare. Per continuare il trionfo e trovare un altro automa di Kalos dovrete avviare l'attività Recessione e dovrete aver selezionato Risolutezza. Una volta avviata l'attività vi basterà avanzare fino a quando non incontrerete i cabal alleati della coalizione. Una volta raggiunti vi consiglio di uccidere tutti i nemici che staranno nella stanza e poi di andare a interagire con l'automa di Kalos. E qui siccome era l'ultimo automa una volta che avrete ascoltato tutto il discorso di Kalos il trionfo ascolta con calma sarà finalmente completato. Come ultima cosa ragazzi dato che ora sono tutti disponibili gli automi di Kalos ci farò un video unico di dove si trovano tutti così da evitarvi di cercarli con tanti video separati. Detto questo spero di esservi stato d'aiuto e se fosse così vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! 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 Ciao ragazzi!